Incidente mortale nelle prime ore della mattinata di oggi lungo l'autostrada A14 all'altezza di Gabice, al chilometro 146 della Corsia Nord. A perdere la vita è stato un autotrasportatore di 59 anni, originario di Acquaviva delle Fonti e residente ad Andria, che con il suo tir carito di frutta e verdura proveniente da Bari era diretto ai mercati del Nord Italia. Tragiche le circostanze per le quali l'uomo ha perso la vita. Poco dopo le 2.30, per ragioni ancora al vaglio della polizia autostradale, il pesante mezzo avrebbe sbandato ed urtato violentemente il New Jersey centrale, che avrebbe fatto così da trampolino di lancio del mezzo, che si è ribaltato. A causa dello schianto il 59enne è stato sbalzato fuori dalla cabina dell'autotreno, ricadendo nella corsia opposta assieme a parte del carico. E per lui non c'è stato scampo. Diversi autoveicoli provenienti dal senso opposto lo avrebbero travolto uccidendolo. Ma nessuno di loro si sarebbe fermato. Solo dopo diversi minuti qualcuno si è accorto della tragedia, bloccando il traffico e attivando così i soccorsi. Sul posto sono arrivati mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia autostradale per deviare il traffico e gestire le lunghe code che si sono formate tra Cattolica e Pesaro, bloccando la circolazione per diverse ore. Chiusa l'autostrada in direzione nord nel tratto compreso tra Pesaro e Cattolica e traffico su di una sola corsia in direzione sud. La normalità però è ripresa lentamente alle prime luci dell'alba.